Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Sono numerosi gli incidenti avvenuti oggi ad Arezzo, per fortuna nessuno con gravi conseguenze ma con ripercussioni alla viabilità. Il primo si è verificato questa mattina in via Curtatone ad Arezzo, un pedone è stato investito da un'autovettura sul posto, la croce bianca di Arezzo lievi le conseguenze per la persona urtata dal mezzo. L'episodio più grave è accaduto nella campagna di Ponte alla Nava dove un ciclista è caduto rimediando un trauma facciale, è stato soccorso in codice giallo. Un altro incidente si è verificato lungo la corsia Nord in A1 tra i caselli di Valdarno e incisa lievi le conseguenze per gli occupanti ma disagi al traffico con numerosi chilometri di code. Un altro scontro si è verificato stavolta sulla SR71 nei pressi di Olmo. Un mezzo pesante avrebbe investito un motociclo e nell'impatto il centauro è rovinosamente caduto a terra. Stando alle prime indiscrezioni fortunatamente però l'uomo non avrebbe riportato gravi lesioni. E parliamo ancora di cronaca e ancora di un arresto per droga a finire in manette due giovani beccati in autostrada. Vediamo il servizio. Viaggiavano con la droga e a bordo di una macchina con targa straniera scaduta. Protagonisti due ragazzi di origine magrebina di 25 e 37 anni. A fermarli e arrestarli ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Stato di Arezzo lungo l'autostrada del Sole. Una pattuglia della Polstrada di Battifolle ha fermato per un controllo una Mercedes-Benz classe A con due persone a bordo che stava percorrendo la carreggiata sud della A1. Poiché l'auto era munita di una targa doganale tedesca comunemente chiamata Zoll la cui validità era scaduta a marzo e quindi non valida per la circolazione sul suolo nazionale gli agenti avevano deciso di fermarla accompagnando gli occupanti in ufficio per un controllo. I due, capito che l'auto sarebbe stata sequestrata, hanno cominciato ad agitarsi tanto da indurre gli agenti ad eseguire una perquisizione dell'auto perché era chiaro che stavano nascondendo qualcosa. Nel cruscotto, dietro all'autoradio e sotto il vano che ospita l'airbag è stato così rinvenuto un involucro di cellophane contenente quasi 100 grammi di cocaina. I due, entrambi incensurati e in possesso di regolare permesso di soggiorno, risiedono nell'Aretino. I poliziotti hanno richiesto ausilio ai colleghi della squadra mobile della questura per andare ad eseguire un'immediata perquisizione domiciliare che però non ha portato a scoprire altro. I due giovani magrebini sono stati quindi arrestati e rinchiusi alla casa circondariale di Prato e sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è stato ufficializzato questa mattina dal dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Arezzo il provvedimento di aggiudicazione definitiva di Palazzo Carbonati, il prestigioso immobile in via Albergotti, una delle strade più suggestive del centro storico della città. L'ufficializzazione ha fatto seguito all'approvazione del verbale di asta pubblica del 31 maggio scorso che in via provvisoria aveva attribuito il palazzo alla società peschiera immobiliare SRL ad un prezzo di vendita pari ad 1.600.000 euro. La società appartiene all'imprenditore Patrizio Bertelli. E stasera in piazza Grande, ultima serata di prove dalle 20.30 alle 23.30, mentre domani, mercoledì 19 giugno, a partire dalle 21.30, è in programma la simulazione di gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro. Secondo l'ordine di carriera estratto, prima concorreranno le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari. Giovedì 20 giugno alle 21.30 si svolgerà invece la prova generale della 145esima giostra del Saracino dedicata alla memoria di Vittorio Farsetti per la quale sono ancora disponibili biglietti sia online sia presso la biglietteria del percorso espositivo i colori della giostra che si trova al piano terra del Palazzo Comunale. E restiamo ad Arezzo dove martedì prossimo torna aperitivo d'estate l'evento estivo promosso da Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo con il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e la collaborazione tecnica della Fondazione Guido di Arezzo. Il servizio. Martedì 25 giugno in fortezza nella splendida Fortezza Medicea nell'ovale verde ci sarà 15 corner di degustazione con le migliori proposte dell'enogastronomia del nostro territorio e quindi ristoratori, pubblici esercizi, enoteche. Davvero l'imbarazzo della scelta, un menù ricchissimo e poi non solo cibo ma anche cultura e anche visite guidate alla Fortezza con tre appuntamenti dalle 19 alle 20 alle 21 e tanta musica, quindi intrattenimento, musica live tutta la sera dalle 18 alle 23. Un impegno di Confcommercio che si rinnova per la tappa retina di Toscana Arcobalino d'estate. Arezzo è pronta a vivere una lunga serata fra il tramonto e l'affacciarsi delle stelle. Merito di aperitivo d'estate, l'evento dedicato al gusto in programma martedì 25 giugno dalle 18 alle 23 nel prato della suggestiva Fortezza Medicea. Abbiamo la novità di quest'anno, appunto un corner di degustazione con l'associazione italiana Celiechi e quindi davvero ci sarà anche lo spazio per una platea molto vasta di consumatori e quindi si potranno degustare anche piatti molto prelibati senza glutine. Si tratta della quinta edizione in terra retina musica dal vivo, visite guidate e proposte enogastronomiche per celebrare le eccellenze culinarie e culturali della Toscana. Mutuata da quello che avviene da tempo sulla riviera romagnola il direttore Canecci ci propose qualche anno fa questa bellissima iniziativa che esplosa a livello toscano fino a diventare un appuntamento ormai consolidato come dicevi tu da ben 12 anni. Ad Arezzo ha saputo scavarsi in uno spazio importantissimo è ormai l'evento più virtuoso di questa iniziativa dove il sudalizio, il confcommercio, la nazione e la regione toscana si esprime al meglio. Nello straordinario scenario della Fortezza Medicea anche quest'anno i nostri straordinari chef e la grande macchina da guerra della confcommercio con la nazione sapranno celebrare a dovere l'inizio della stagione estiva. L'iniziativa è parte della dodicesima edizione di Toscana Arcobaleno d'estate la fortunata Kermess voluta da Regione Toscana e la Nazione insieme a Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana per festeggiare l'inizio della bella stagione. Per noi il 2024 è un anno importantissimo perché facciamo 165 anni il 18 luglio quindi questo aperitivo d'estate precede tutta una serie di iniziative che Nazione farà a livello regionale anche a livello locale faremo un libro con i nostri autori più importanti che hanno scritto le pagine domenicali di lettura una serie di foto antiche in un libro e mille altre iniziative anche sociali quindi credo che l'aperitivo d'estate sia il miglior augurio per un'estate da 165 anni che ancora godono di ottima salute E martedì prossimo anche la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi parteciperà all'iniziativa Toscana Arcobaleno d'estate offrirà visite gratuite guidate ai partecipanti all'evento in fortezza un'iniziativa che si inserisce in un ricco programma estivo a Casa Bruschi da Jazz Wine a Yoga e Arte fino a Officine Vasari il contenitore di attività che celebra l'importante anniversario vasariano senza dimenticare la possibilità di poter visitare la mostra La Libera Maniera è occasione per vedere Arezzo opere di artisti del calibro di Burri e Fontana dichiara Luca Benvenuti che è il presidente della fondazione Ivan Bruschi e adesso passiamo alla politica perché Cortone è l'unico comune interessato il prossimo 23 e 24 giugno a dalle elezioni amministrative con il turno dedicato al ballottaggio facciamo il punto di questo appuntamento politico in città nel servizio Domenica 23 e lunedì 24 giugno si svolgerà il ballottaggio per eleggere il sindaco della città di Cortona i candidati che si sfideranno sono Luciano Meoni sindaco uscente sostenuto dalle liste civiche futuro per Cortona e movimento autonomo popolare e Andrea Vignini anche lui ex sindaco della città per due mandati sostenuto dai partiti di centrosinistra PD, 5 Stelle e della lista Cortona Civica nella prima tornata elettorale Meoni ha ricevuto il 45% dei consensi Andrea Vignini si è fermato al 35% si voterà domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 lo scrutinio inizierà lunedì alle 15 subito dopo la chiusura dei seggi al seggio ci si dovrà recare con la tessera elettorale con un documento di identità valido per la distribuzione delle tessere elettorali e per la sostituzione di quelle esaurite sono state previste delle aperture straordinarie degli uffici competenti le persone chiamate alle urne a Cortona sono 17.605 8.526 maschi e 9.079 femmine nel territorio comunale sono presenti 30 sezioni elettorali la più grande la numero 9 di Camucia 1057 elettori la più piccola è la numero 29 di Teverina 111 elettori a cui va aggiunto il seggio volante per le persone ricoverate nelle strutture sanitarie gli elettori qualora si trovino in condizioni di disabilità o di difficoltà di deambulazione possono richiedere il servizio di trasporto contattando l'ufficio elettorale o la misericordia di riferimento per l'area territoriale sono circa 200 le persone fra addetti dell'amministrazione comunale componenti dei seggi oltre alle forze dell'ordine che garantiranno il regolare esercizio del voto ai seggi ancora politica il neo eletto sindaco di Bibiena Filippo Bagnoli ha appena annunciato la nuova squadra di giunta si tratta di Matteo Caporali che è stato riconfermato vice sindaco e avrà le seguenti deleghe lavori pubblici programmazione attuazione fondi PNRR manutenzione verde e arredo urbano e cimiteri Francesca Nassini la più votata di questa ultima tornata elettorale avrà come deleghe cultura, turismo, sport e associazionismo Daniele Bronchi avrà le deleghe di assessore all'urbanistica e edilizia SUAP attività produttive comunità energetica ambiente parco nazionale volontariato protezione civile e rapporti con il consiglio la giunta di Bibiena avrà anche una nuova figura si tratta di di Vittoria Valentini con deleghe a scuola politiche per l'infanzia e l'educazione insieme a politiche giovanile innovazione smart city e gemellaggi Francesco Frenos l'assessore esterno con politiche sociali edilizia residenziale pubblica polizia municipale e sicurezza urbana trasporto pubblico locale regolamenti e semplificazione amministrative insieme alle aree interne e adesso torniamo ad Arezzo il bando per le famiglie denominato Tempo Bello del Comune di Arezzo si riaprirà a luglio vediamo il servizio nuova finestra con altre risorse a luglio per il progetto del Comune di Arezzo dedicato alle famiglie denominato Tempo Bello supporto economico per le attività estive i requisiti di accesso per la richiesta dei voucher restano gli stessi età compresa tra i 12 e 36 mesi tra i 3 e i 14 anni residenza nel Comune di Arezzo e attestazione ISEI non superiore all'importo di 35 mila euro la richiesta dei voucher è estesa alle famiglie con figli disabili fino ai 18 anni senza limiti di ISEI dopo le 1300 famiglie che hanno già ricevuto il voucher per l'estate quindi il famoso Tempo Bello 3.0 a luglio si apre una seconda finestra per poter dare ancora più opportunità l'obiettivo è come anno scorso riuscire a rispondere al 100% delle richieste quindi noi crediamo che con questa seconda finestra si possa centrare anche quest'anno l'obiettivo di rispondere a tutti coloro i quali hanno già chiesto quindi oltre 1300 andremo a accogliere il bisogno e l'opportunità per altre famiglie e adesso occupiamoci di animali cinque cuccioli di ricci sono stati salvati e ora sono accuditi dall'EMPA il servizio di Chiara Sadotti questi piccoli questi piccoli cinque ricci nati solamente qualche giorno fa sono stati trovati allo stadio di Arezzo a salvarli e a prendersi cura di loro la presidente di EMPAREZO Sandra Capogreco avevano appena tagliato l'erba da qualche giorno e Caterina passando con il suo cane il cane l'ha stanati e si è visto questi piccoli ricci uscire dalla tana poco più là ci siamo sincerati prima di portarli via che non ci fosse la mamma ma poco più là la mamma era stata tagliata col tagliaerba quindi non c'era dubbio che questi animalini avessero bisogno di aiuto e quindi una volta coordinateci con la ricciofila di Arezzo la Francesca li abbiamo portati a casa e un bel lavoro però una grande soddisfazione i ricci sono ancora troppo piccoli per sopravvivere autonomamente hanno infatti bisogno di cure speciali e continue hanno bisogno del latte ancora tutti i giorni oggi siamo arrivati ai famosi 100 grammi e quindi qualcuno riusciamo a svezzarlo dall'EMPA arriva anche l'appello all'attenzione nei confronti di questi animali innanzitutto quando lo vediamo in mezzo alla strada rallentare ma questo per qualsiasi animale dico che bisognerebbe fare così sarebbe buona educazione e comunque sempre dare un occhio di attenzione se lo vediamo in difficoltà cerchiamo appunto di aiutare gli animali cioè io credo che essere far parte di un volontariato come EMPA significa avere attenzione non solo per i cani e i gatti ma per tutto il mondo animale ed è questo il messaggio che io vorrei trasmettere anche ai nostri volontari cioè fare volontariato per gli animali e soccorrerli aiutarli farsi carico in prima persona di aiutarli i cinque piccoli ricci una volta svezzati potranno tornare a vivere liberi e li libereremo qui nel giardino ci hanno un'apposita casettina pre diciamo liberazione ma poi vivranno liberi e adesso passiamo alla pagina sportiva domani alle 19.30 al centro sportivo Chiasa Sporting Club gestito dai fratelli Amedeo e Guido Carboni ci sarà una cena in ricordo di Fabio Cini ex Amaranto scomparso prematuramente un anno fa presenti la moglie Patrizia il figlio e gli ex compagni di squadra il museo Amaranto con in testa il presidente Stefano Butti donerà alla moglie una targa ricordo e ad Arezzo arrivano i campi estivi targati Inter e CSI attraverso un'iniziativa lanciata dal centro sportivo italiano in questa estate sarà il comitato di Arezzo ad ospitare i tecnici nero-azzurri da lunedì 24 giugno fino a venerdì 28 giugno potranno prendere parte alle giornate in modo completamente gratuito bambini e bambine dai 6 ai 14 anni i 5 giorni di camp si svolgeranno presso il campo sportivo Roberto Lorentini di Pescaiola grande soddisfazione in casa CSI Arezzo come evidenzia il presidente Lorenzo Bernardini ringraziamo l'Inter e il centro sportivo italiano per aver scelto il comitato di Arezzo per ospitare il camp solidale che inizierà lunedì 24 e terminerà venerdì una settimana di attività calcistica completamente gratuita per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni saranno coinvolti anche gli educatori del CSI di Arezzo per sostenere tutti i partecipanti 5 giorni dunque dove i colori arancio blu si amalgameranno al nero azzurro in un contesto di sport aggregazione e divertimento e in chiusura parliamo di atletica una medaglia d'oro per l'alga atletica Arezzo alle finali regionali del campionato di società della categoria ragazzi la manifestazione si è svolta a Pietrasanta e ha riunito i migliori atleti toscani nati nel biennio 2011-2012 emersi dalle precedenti prove interprovinciali con la società Aretina che ha potuto gareggiare in un contesto tanto prestigioso con ben due atleti si tratta di Daniel Fiani e Mattia Falciani una manifestazione di altissimo livello che è stata firmata da Fiani che si è laureato campione regionale nei 60 piani con 8,08 secondi il settore giovanile dell'alga atletica Arezzo ha trovato soddisfazione anche ai campionati provinciali di Montevarchi dove sono arrivati 8 ori 2 argenti e un bronzo e con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata arrivederci a